Messa in sicurezza di via Pistoiese, dopo il montaggio del cordolo centrale è scattato il successivo step che prevede l'attivazione di alcune modifiche della viabilità secondaria finalizzate a migliorare gli ingressi e le uscite su via Pistoiese. In concreto è stato aperto al transito il nuovo collegamento tra via di Cocco e via dell'Osteria lato Piagge e contestualmente invertito il senso di marcia di via di Cocco tra via di Brozzi e via Pistoiese, ora a senso unico verso quest'ultima. Per garantire la sicurezza dell'incrocio è stato installato da Silfi un nuovo semaforo tra via Pistoiese e via di Cocco, già realizzate inoltre ulteriori interventi migliorativi come la piccola rotatoria all'incrocio tra via di Brozzi e via Golubowicz che oltre a ottimizzare l'incrocio rappresenta una possibilità di cambio di senso per chi percorre via Pistoiese in uscita città. E sempre nell'ottica di fluidificare la circolazione è in corso la riorganizzazione delle fermate del trasporto pubblico mentre prosegue l'iter per realizzare un collegamento tra via Veneto e via dell'Osteria. Grazie. 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 Grazie.